buongiorno cari amici del pavese come va tutto bene allora noi ci troviamo nelle prossimità del bivio vela qui stiamo arrivando alla località scarpone e noi vi facciamo vedere dove il comune di pavia ha deciso di ci ha deciso ha proposto di trasferire la comunità sinti che attualmente si trova in piazza d'europa allora questa è la scaglione questa è via scarpone tra l'altro come potete notare qui c'è già qui ci sono già dei degli accampamenti con delle roulotte quindi noi invece di andare verso broni quindi scarpone torniamo verso diamo verso pavia centro il bivio vela e vi facciamo vedere dove come di pavia vorrebbe trasferire la comunità che attualmente si trova in piazzale europa per intenderci a destra si va a bel gioioso a sinistra san pietro c'è la fine della tangenziale est ecco questo adesso ve lo facciamo vedere qui c'è una una fabbrica e qui questo è il campo dove il comune di pavia vorrebbe trasferire la comunità sinti eccolo qua questo è il campo qui c'è il bivio vela siamo a 7 chilometri da bel gioioso ecco questo è il bivio vela e questo è il campo dove il comune di pavia vorrebbe trasferire la comunità sinti che ne pensate vi auguriamo una buona giornata